L'integrazione europea, l'accoglienza dei migranti e il conflitto in Ucraina sono stati al centro dell'incontro tra il Papa e il Presidente della Repubblica della Lituania, la signora Dola Gribauska-Ite. Nel corso dei cordiali colloqui, riferisce la Sala Stampa Vaticana, è stato espresso apprezzamento per il positivo contributo della Chiesa Cattolica alla società lituana. In seguito sono stati esaminati alcuni temi di mutuo interesse, quali l'integrazione europea, la necessità di una maggiore solidarietà tra le nazioni per affrontare le diverse sfide del presente e l'accoglienza dei migranti in Europa. Si è parlato poi della pace e la sicurezza a livello regionale e internazionale, del conflitto in Ucraina, nonché della situazione nel Medio Oriente, con particolare riferimento alla Siria e alla Terra Santa.